La stanza inclinata! 22 gradi e mezzo che fanno paura a tutti! E i protagonisti della stanza inclinata sono... Sergio Assisi, prego! Max, vieni Max! Palantoni, Francesco, vai! Ma veramente? Ma davvero? Prego, non potremmo farne a meno, grazie! Giulia, Giulia Saini, vieni Giulia! Clemente, prego! E Gloria! Vai, vai, hai un ruolo particolare, perché voi godetevi la stanza, anzi, facciamo una cosa... Anche a casa, veramente, non perdetevela per nessuna ragione al mondo, sta per iniziare! Posso entrare... Sergio e Max, ti do il ruolo, tu sei il più bravo chirurgo di un prestigiosissimo ospedale che è lo Step Hospital, quindi sei un grande chirurgo e Max sei il suo assistente personale, un anestesista un po' pazzo, nel senso che gli anestetici li hai sperimentati tutti personalmente. Ma beh, possiamo fare l'entrata? Ok. Entrino il chirurgo e l'anestesista. Eccoci qua, dottore. Dottore Ciccelli, venga. Eccoci, dottore. Non ha mangiato bene stanotte, dottore. Non tocchi, cosa tocca? No, non ha mangiato bene. Allora, noi dobbiamo arrivare a quel tavolo operatorio. Sì. E ci arriveremo? Certo, dobbiamo metterci i camici, cosa ci vuole? Non è che è così difficile, guardi. Io non ricordavo che la sala operatoria fosse così lontana. Eh, sì, sì, sì. Abbiamo tante cose da fare, dobbiamo anche visitare Venezia. Dottore Ciccelli, mi dai una mano, mi porti il camice qui. Sì, mi se ne porto il camice. Ecco il camice. No! Ecco il camice. Ecco il camice, guardi. Ecco, aiutateli anche a legare insomma questo camice. Mi aiuti, mi aiuti. Sì, certo, dottore. Siamo qui, dottore. Mi aiuti. Sì, ecco qua. Ecco qua, dottore. Ecco qua. Questa non è una sala operatoria. Ecco qua, dottore. Si giri che le mette a posto il camice. Scusa, legatevi il camice. Scusa, faccia un nodo, almeno uno. Faccia un nodo, marinaro. Eccolo qua, eccolo qua, aspetta. E anche lei, professore, al suo assistente. Dottor Pisciccelli, non mi sia sempre dietro. Eh no, eh. Le devo mettere il camice, dottore. Eh, che cazzo. È una crisi della sanità. Professore, anche lei, al noto anestesista, lo aiuti ad allacciare il camice. Mi aiuti, dottore. Certo, l'aiuto. Anche dopo dobbiamo fare la puntura sotto catania. Mi secco. Sotto cutania. Sì. Perché tra non molto avrete un intervento chirurgico importante. Che intervento è oggi? E dovrete rimuovere ad un signore un oggetto che ha ingerito accidentalmente. Andate a... Ma lei è sempre per terra, dottore. Andate a lavarvi le mani, perché prima di qualsiasi intervento chirurgico... Dobbiamo igienizzare. Bravo, bravo. Dottor Pisciccelli, l'igiene prima di tutto. Si lavi. Certo, il lavaggio delle mani è importantissimo. Ho detto si lavi, non scivoli. Dove va? Eccomi. Dov'è la porta? Com'è difficile fare il medico. Allora, attenzione. Dottor Pisciccelli, potete... Secondo me questa operazione... Forse è meglio prendere le scale. Sarà un po' complicato. Prendete le scale. Prendiamo le scale. Prendete le scale. Ma ci stanno le scale, usiamo le scale. Fate vanno a fare le scale. Perché cavolo? Vada. Andatevi a lavare le mani. Laviamoci le mani, su. E poi dovete trovare i copri scarpe. Quelli sono fondamentali, perché... Lì c'è la carta per asciugarsi. C'è la garza. Esatto. La garza grande cos'è? Il garzone. Bravo. Il garzone. Cosa fa? Asciugatevi. Ok. Dovete metterle ai piedi per... Infili. Si prepari, si prepari. No, lì, lì in fondo. Bravo. L'altra. Anche un'altra. Presto. Faccio presto. Signor. Che c'è? Qui è tutto di pinzettato. Bisogna tenere le piattoline ai piedi. C'è l'era? Oddio. Dove? Certo. Certo. Dottor Piscicelli. Sì. Infili l'altro. Ah, sì. Presto. Io non ho mai visto però un maggior d'uomo in una sala operatoria. Lei chi è? Di chi ha dato la siera deve mettere le piattoline. Ce l'ha le piattoline tu? Lei deve essere operata al cervello, vero? Si accomodi. Si accomodi. Venga. Perfetto. Gli deve mettere uno per uno però. Le pattine forse non sono quelle giuste le pattine. Meglio prendere i copriscarpe da qualche parte. Dove sono? Le avete prese per... Eccoli qua. Dottor Piscicelli prende i copriscarpe. Ecco qua. L'infilia al soggetto lì. Venga, signor Calchetto. Te la metti io? Sì. Sembra un DJ. Fa una sua frangetta. Grazie da piede. Ecco qua. E poi Ariel mi aiuti a trovare il borotalco per le mani. Dove sta? Ce l'ha? Presto. Dov'è il borotalco? Provate a guardare se c'è del borotalco. Borotalco? Sì. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Ecco, bravo. Sì, signor. Prenda anche Ariel. Prenda, prenda, faccia una cosa. Prenda anche i guanti. Poi. Sì. Prenda anche i guanti. I guanti. Perché tra non molto inizia l'intervento chirurgico. Io ho portato pure la varichina, signor. La varichina? Sì, per disinsettare tutto, signor. Ma no, tu i guanti, i guanti loro che sono i chirurghi. Sono io il chirurgo, non lei. Quale mano? Questa qua. Allora, dottore, siamo tutti a posto? Tutti a posto qui per oggi. Bravi. Tra non molto entrerà il paziente. Dobbiamo fare quest'operazione. Non ci sono più dottori di una volta. L'altra mano. Non posso. Opererò con una mano sola. Sì, fermi. Sono un grande minuto. Scusi nel telefono, professore. Professore, scusi nel telefono. Scusi. Pronto? No, signore, non c'è. Chi sta facendo le operazioni? Chiama dopo. Chi è? Chi è? Non lo so. Chi è? Dice chi è? Vi dicono che il paziente, il signor Paolo Antoni, che tra un po' dovrete operare, è un ipocondriaco. Sì. Quindi, insomma, è talmente terrorizzato dall'operazione, dall'enestesia, che sta scendendo in sala operatoria, si è aggrappato all'infermiera, Salemi. Quindi entrino il paziente e l'infermiera. Grazie. Bene. Grazie, Ariela. Donore. Lei può andare. Ecco il paziente. Ecco. Ma come è che si deve aspettare? Lei è l'infermiera e lui è il paziente. Aspetta, aspetta, aspetta. Accomodatevi. Ho portato il mio paziente adorato. Vai, è il paziente. Chiama pazienza. Si metta sul tavolo. Ma la pancia, ma la pancia. Hai mal di pancia? Aspetta. Ma la testa, ma la testa. Grazie. Infermiera, infermiera, provi a distendere il paziente perché ha ingerito. Andiamo, andiamo. Signor Pall'Antonio, come si chiama? Pall'Antonio? Pall'Antonio, un sacco. Che cosa ha ingerito? Me lo dica. Mamma mia, quella mi deve operare? Si. Mamma mia, bella. Sono più largo di nota fama. Mamma mia, bella. Infermiera. Infermiera, lo fonda sul tavolo. Infermiera, vada, ecco, lo metta sul tavolo. A cuore il figlio. Si accomodi, si accomodi. Si accomodi, mi fai il figlio. Certo. Infermiera. Infermiera. Vediamoci dopo, nell'orario fuori ufficio. Grazie infermiera, lei può uscire. Lasci il paziente con il chirurgo e con l'anestesista. Lei può uscire. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Si, sicuro. Dottore. Si metta su. Si sta in là. Si metta su. Ma che paziente è? Appia pazienza. Allora. Mi senti scivolà. Mi senti scivolà. Mi senti scivol... Io volevo fare un avvocato. Dottore, aiutatemi. Dottore. Per favore. Si alza e si metta qui. Allora. Paziente, tra non molto, lei verrà addormentato dall'anestesista con... con del gas esilarante. Volete addormentarlo anche lì sul puff? Magari così lui... Ecco. Abra la bocca. Abra la bocca. Ho fatto la puntura. Ma ho fatto la puntura. Ecco, gas esilarante. Ecco, senta questo gas esilarante. Ma che c'è il sale? Non c'è niente da ridere. Lo respirate tutti questo gas esilarante e cominciate a ridere. Lo sentite da ridere. Quella deve essere operata. Quella ha tre giorni di vita. Grazie, grazie, grazie. Non sto scherzando. Sto male. Attenzione, attenzione. Qualcuno risponda. Vada. Vada anestesista, vada. Dottor Pescicialli, risponda. Vada, vada. Dottor Pescicialli, risponda. Mi stanno rendendo l'infarto. Non sto scherzando. Si secchi. Se secchi. Chiedono, chiedono dagli uffici dirigenziali come mai si sente tutto questo baccano nella sala operatoria. Si sente questo baccano perché abbiamo fumato un fumo che non so che cos'è. Ma adesso le faccio il chirurgo. Pronto? Si. Si. Cosa accusa? Cosa accusa? L'operazione è andata benissimo. C'è rotta la gamba. Non sto scherzando. C'è rotta la gamba. Il paziente è morto. C'è rotta la gamba. Si sono rotta la gamba. Tutte e due. Andate. Andate. Andate a vedere le lastre del paziente adesso. Senta lei, si prenda le lastre e se le guardi da solo. Attirata dal baccano arriva la capo infermiera, la storica infermiera Gloria. La storica infermiera Gloria entra con il suo epico carrellino dei medicinali. Che succede? C'è tutto. Eh? Ecco Gloria. Gloria. Ti sei dimenticata il carrellino dei medicinali? Tutte le donne in cadono ai piedi. Il carrellino, il farviera. Eh, senza carrellino. Il carrellino. Chi deve consegnare le urine? Paziente, lei si distenda per favore. Cerchiamo di rimettere tutte le cose in ordine. Esatto. Ci metta supino, supino. Supino, forse è meglio il supino, paziente. Supino. Lupino. No, lupino. Supino, supino. Ecco. Ecco, tenete fermo il paziente. Tenete fermo il paziente. Ho una nattula di H2O. Tenetelo fermo. Vabbè l'anestesista. L'anestesista. Sono qua, sono qua. Mi senti ci vola. Mi senti ci vola. No. Siete tutti intorno al paziente. Bisogna operarlo. Opero. Opero. Spazio. Niente. Spazio. Non si vuole addormentare. E allora il professore, il chirurgo, ci prova con un prodotto russo. Arriva Clemente Russo. Che lo addormenta con un gancio al mento. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi addormenta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Si addormenta, si addormenta. Dormi. Sta sognando. E ora, finalmente, Sergio puoi operare. Sì. Puoi operare. Adesso l'opera. Apriamo, vediamo. L'operazione è finita, ma non riuscite a svegliarlo. L'unico modo per svegliare il paziente, probabilmente, è poter avere un bacio sulla fronte da parte di Gloria. Ma c'è svegliato. Ci provo. Vediamo se riesce Gloria a baciarlo sulla fronte. Non riesco a svegliarmi. Ecco, si è svegliato, è guarito, ed è sempre bene quel che finisce bene. A statera tutto è possibile.